buon dia 16 aprile 2022 in grafica abbiamo tutti i match consigliati per la scalolover per questo weekend ricco di match ma per quel che concerne la scalolover solo 7 match selezionatissimi e sono i seguenti alle 12.30 voliamo in Sardegna per Cagliari Sassuolo Inghilterra Premier League alle 13.30 Tottenham Brighton alle 14.30 Serie A Genoa Sampdoria Salernitana alle 15.30 in Germania Augusta Erta Berlino abbiamo visto quanto è in difficoltà l'Erta settimana scorsa rischia la retrocessione in Zweite Liga e quindi è una delle ultime opportunità per l'Erta di Jovetic per cercare in qualche modo in qualche maniera tra l'altro Jovetic è stato espulso contro l'Union e quindi non ci sarà è una delle ultime opportunità per l'Erta per cercare di mantenere la categoria Borussia Dortmund a Voxburg alle 15.30 anch'essa Premier League a Watford Brentford alle 16 e poi alle 18.30 Borussia Mönchengladbach contro il Colonia queste le sette partite selezionate per la Scalolover. La Liga quest'anno non c'è perché la Liga purtroppo non ha una statistica interessante complessivamente per gli over 1,5 e quindi purtroppo quest'anno la Liga non fa parte della Scalolover o meglio c'è stata all'inizio dell'anno ma non ho fatto i video pubblici sulla Scalolover e poi nel corso della stagione ci sono stati complessivamente pochi gol e quindi la statistica per l'over 1,5 non non è una statistica interessante per la Scalolover è un parametro importante e quindi non avendo quel parametro evito tutte le partite di Liga a prescindere da tutto e da tutti. 16 su 22, 19 su 20, 20 su 22, 12 su 14 e l'ultimo weekend 10 su 12. Questi sono i risultati della Scalolover fino a questo momento. 77 match su 90 hanno visto almeno due reti, tantissime reti anche nel primo tempo nell'ultimo turno. Le uniche delusioni avute nell'ultimo weekend sono quelle di Vittoria, Guimarães Porto, 0-1 col rigore fallito, il secondo rigore fallito da Taremi per il Porto, il primo l'aveva realizzato, il secondo è stato fallito e quindi non c'è stato l'over 1,5 ma con una buona operatività sicuramente anche Vittoria, Guimarães Porto è andata in profitto. Per quel che concerne invece Toro e Milan c'era poco da fare, lì non c'era storia, 0-0 brutto e non ci abbiamo avuto soddisfazione allo stadio olimpico grande Torino tra Toro e Milan. Quello su cui sto un attimino lavorando sono i diversi 0-0 che ci sono stati, perché 77 match su 90 consigliati sono stati over 1,5. Diverse persone tra le altre cose mettono alcune partite in schedina e hanno dei buoni risultati, si giocano più schedine quando consiglio la scala all over ad alcuni ragazzi, poi li ho consigliati dei match anche privatamente nel corso della stagione, però sono tanti gli 0-0 che ci sono stati, 7-0 sono tanti e quindi sto lavorando per cercare di arginare un attimino questo problema, perché se pensiamo che 77 partite su 90 sono terminate con almeno due reti, i restanti 13 match, nei restanti 13 match sono stati ben 7 gli 0-0, quindi un pochino troppi, un pochino troppi, ci sto lavorando perché vorrei ridurre al minimo questa percentuale di 0-0 in modo tale poi da incrementare ulteriormente i guadagni, i profitti seguendo la scala all over a livello operativo nell'exchange. Queste sono le cose, non c'è altro da aggiungere, non c'è altro da dire, investiteci nel modo giusto, nella maniera giusta, con un'operatività adeguata e sicuramente anche questi match avranno la loro resa.